Domani si torna in campo dopo la sosta. Ecco il bilancio del mister. Sicuramente è stata positiva, sicuramente quei ragazzi che avevano dei piccoli problemi si sono sempre allenati un po' con precauzione, si sono potuti allenare meglio. Chi era un lungodeggente ha accorciato i tempi, per cui Tiago Motta già è disponibile, anche se naturalmente non ha i 90 minuti, però ha già fatto sufficienti allenamenti con noi e poi certo la condizione fisica piano piano migliorerà. Wesley sta molto meglio, ha quasi fatto tutto con noi, per cui io credo che per Lille sarà disponibile. E oggi poi o ieri ho riavuto un po' tutti e manca Forlan e Coutinho. Un peccato per Forlan perché è una cosa abbastanza seria e lunga. Si passa quindi a parlare di moduli tattici. Il 4-4-2, beh, l'ho detto dal primo giorno, per me è importante il 4-4-2, adesso o il rombo o in linea i quattro centrocampisti cambia poco. L'importante è fare il bene della squadra pensando a come stanno in forma, a quello che possiamo fare. E' sempre un compromesso tra quello che voglio io e quello che la squadra può darmi. Con Forlanca Po si parla di Zarat trequartista e il conseguente turnover degli attaccanti. Ma adesso sono tutte problematiche che mi verranno partita dopo partita. Non scarto nessuna ipotesi perché il calcio è una materia talmente, come posso dire, malleabile. E' quello che pensi adesso, magari dopo Catania hai rivisto un attimino le idee, i programmi e tutto. Per cui adesso per noi è importante Catania, poi pensiamo a Lille, poi pensiamo alla successiva. Per cui sono giocatori importanti, sono campioni, gente che magari si deve anche un attimino ambientare bene nel contesto squadra, nel contesto italiano e tutto. Per cui devo tenere nella giusta considerazione tutti quanti. Però non scarto a priori né lo Zarat trequartista né il Castagnos perché è un giocatore, è un centrale d'attacco molto ficcante, attacca gli spazi. Per cui è un giocatore che può essere utile. Infine, un commento sul Tour de Force che attende i neroazzurri da qui, alla prossima sosta. Ma ogni partita, ogni partita ha un significato importante e preciso perché domani andiamo su un campo molto difficile, ostico, non soltanto per l'Inter. Abbiamo visto la Juventus quanto affaticato. Sappiamo benissimo che l'Inter due anni fa ha perso, l'anno scorso è riuscito a vincere faticando molto. Per cui sono campi particolari, per cui noi dobbiamo far punti, è un momento che noi dobbiamo far punti assolutissimamente per non staccarci dal gruppo di testa.